Ciao ragazze, bentornate! Allora, terzo video sui prodotti finiti. Questa volta vi parlo dei prodotti finiti per i capelli. Allora, ho terminato questo qua che è l'Oreal Elbil Olio straordinario capelli ricci sublimi. Questo qua, crema ricci disciplinante. Allora, e la linea appunto dedicata a quando mi faccio i capelli ricci è la linea proprio dedicata e quella che utilizzo veramente tantissimo. Ogni tanto passo anche, utilizzo anche quelli della Sunsilk o comunque anche altre linee. Però questa qua, devo dire che questa crema l'ho comprata più, più, più e più volte. Mi trovo veramente bene. Mi rende i capelli morbidi, quindi i ricci li sento comunque molto morbidi, specialmente quando la passo e quindi io ne utilizzo comunque, metto comunque al giusto due, come si chiamano noci, almeno due e le passo su tutta la capigliatura. Devo dire che è veramente buonissimo. Sono 200 ml di prodotto e l'ho veramente, devo dire, spremuto al massimo. Di questa linea comunque ho provato anche il balsamo, lo shampoo, devo dire che sono veramente buoni e quindi la ricompro assolutamente, appunto come vi ho detto, la ricompro e in continuazione. Poi ho terminato, l'ho preso da risparmio a casa, questo qua, lo shampoo della Sunsilk, questo qui, crescita naturale, con la bio biottina. Allora, devo dire che ho già provato comunque shampoo della Sunsilk, ad esempio ho anche preso quello appunto per i capelli ricci, quello per i capelli lisci, quando mi faccio i capelli comunque un po' più lisci. Questo qua, della crescita naturale, in realtà, in questo specifico non l'avevo mai preso. Allora, mi sono trovata bene come shampoo, che devo dire che pulisce veramente bene il cuoio capelluto, i capelli comunque sono appunto, li sentite proprio bene lavati, puliti. Sulla crescita naturale ho un po' da, diciamo, da ridire perché io, almeno su di me, non ho notato tutta sta grandissima, comunque nel periodo che l'ho utilizzato, che devo dire che l'ho utilizzato comunque bene o male da quando, all'inizio fino alla fine. Quindi non è che l'ho stoppato, l'ho usato magari per una settimana, poi l'ho messo via, l'ho ripreso, dopo un po'. No, l'ho preso e poi l'ho terminato. Anche perché io comunque difficilmente stoppo gli shampoo, normalmente comunque uno shampoo lo utilizzo da quando è nuovo fino alla fine. Solo i bagno schiuma magari li stoppo un attimino, però in realtà i shampoo no. Quindi devo dire che io ho proprio l'ho utilizzato tutto in un colpo solo e devo dire che come crescita naturale, neanche di un millimetro, due millimetri, non penso, se proprio le sono cresciute, appunto, poi parliamo di millimetri perché non ho vista tutta questa grande ricrescita naturale. Tra l'altro anche le punte, queste cose qua, non ho trovato comunque un miglioramento, anzi ho dovuto utilizzare, non per colpa di questo shampoo, però proprio perché io comunque in questi mesi mi sono trovata comunque i capelli a pori di fare magari anche colpa delle tinte, asciugare, quindi magari tutte queste cose qui, comunque le ho trovati particolarmente secche, quindi ho utilizzato dei prodotti per renderli le punte più morbide e tutto. Non è che questo me l'ha peggiorati o migliorati, diciamo che non ha fatto nulla di granché, però devo dire che anche come profumo è buono, comunque sa di tipo di frutta così, mi sono trovata diciamo bene, come shampoo lo potete prendere tra l'altro magari anche per magari ragazzi, se avete appunto ragazzi o uomini in casa è uno shampoo tranquillo, normale e quindi va benissimo anche per gli uomini. Poi ho utilizzato tantissimo, ma ovviamente ne ho utilizzata veramente tanta, questa crema qua della AX Creme della Cromax e ovviamente è una crema professionale, io l'ho presa viola, dato che mi sono fatta, anche se adesso forse non si nota tantissimo perché sono diventata molto più scura, però se vedete i video precedenti si nota veramente in tanti video che ho i capelli viola. Per mantenere comunque il colore sempre bello, comunque lucido e anche nutrito e anche mantenere il colore per non andare sempre a riprendere comunque a farsi la tinta, anche perché comunque come colore scolorisce veramente tantissimo in fretta, come tanti colori come può essere i rossi, queste cose qua scoloriscono veramente tanto. Allora ci sono queste creme qua, queste maschere colorate e nutrienti, sono delle maschere comunque professionali, quindi non le trovate nei supermercati, in nessun supermercato, io l'ho comprato da Accornero che è comunque un negozio specializzato in prodotti per capelli e infatti fornisce anche i parrucchieri. Non c'è magari in tutte le città, adesso non lo so, però appunto comunque potete prenderla anche, la trovate su Amazon, la trovate comunque sul sito, c'è la Cromax, potete comunque prenderla anche se non avete questo negozio a Cornero vicino nella vostra città. Io appunto ovviamente non c'è solo il colore viola, ma esistono tantissime colorazioni, come da quelle un po' più sbarazzine come appunto il viola, ma c'è anche il colore lavanda che è un viola un pochino più freddo, poi c'è la maschera color rosa, che anche lì magari se siete biondi e volete farvi delle ciocche rosa, potete farlo e comunque sono sempre, non solo, ma proprio essendo che non è una tinta, è anche più una maschera, quindi vi lascia sempre questo colore molto tenue e poi vi nutre veramente, perché poi dopo quando voi andate a risciacquare questa maschera, vi sentite veramente tantissimo i capelli super morbidi, come se avete passato tante altre maschere di altre marche, quindi è veramente favolosa. Tra l'altro, giusto per farvi un'idea, questa qua è come le maschere della Collistar, quella la CC Cream, è uguale, è da un colorito naturale al capello, ovviamente non è che va a coprire tantissimo i capelli bianchi, per chi ha i capelli bianchi, o va comunque a stravolgervi il colore del capello, diciamo che vi dà giusto un lucentezza comunque al capello, ve lo ammorbidisce perché appunto fa l'effetto, comunque è una maschera nutriente e poi in più vi può dare o il colore, quindi se voi siete castane e prendete la maschera castana, vi dà comunque col colore magari un po' più brillante, ovviamente non noterete tutto sto cambiamento di colore perché è già il vostro color naturale, se no prendete le maschere colorate e giocate un po' con questi colori, io comunque l'ho presa più di una volta e devo dire che è favolosa, ovviamente il prezzo può giusto magari cambiare da Amazon o il negozio così, ma di poco, però appunto è veramente buonissima, poi allora un altro prodotto che ho terminato è questo, della Mandorle Ultra Dolce, ve ne ho parlato anche in altri video, come anche quella della maschera della Cromax, è un olio praticamente di bottega verde, io l'ho preso profumato perché se no c'è anche la versione senza profumo, quindi proprio super naturale, questo qua invece a me piace che comunque quando lo passo si sente proprio il profumo delle mandorle perché poi adoro il profumo delle mandorle, questo qua è veramente un olio favoloso, l'amore della mia vita, perché è veramente buonissimo, lo potete utilizzare veramente in tantissimi modi, sono 100 ml di prodotto, la confezione è in vetro, è fatto così, allora io vi dico, loro qua sulla confezione ve lo consigliano ovviamente per utilizzare nei capelli o passarlo nel corpo, quindi voi potete passarlo dalla testa EP, quindi praticamente su tutto il corpo, braccia, gambe, pancia, quello che volete, ovviamente uso esterno e anche sui capelli, infatti qua dice anche che è ottimo da stendere sulla pelle dopo la doccia per prevenire le smagliature e come impacco morbidente per i capelli, non unge, profumo di mandorle dolci, allora io l'ho utilizzato moltissimo sul corpo, non è che ho visto tutti questi, anche perché io comunque su questo non sono stata costante sul corpo, quindi non è che mi sono passate subito le smagliature e come tanti prodotti sulle smagliature, io sono uscito, ho provato anche a essere costante, quindi proprio a iniziarlo e finirlo, ho fatto come si può dire una cura, non è che mi sono sparite, però diciamo che ho come i tuoi prodotti per l'anticellulite, funzionano più o meno, bisogna ovviamente anche aiutarle con altri modi, quindi io questo qua l'ho provato, in ogni caso il corpo ve lo rende veramente la pelle morbidissima, rimane comunque il corpo, cioè poi dipende anche voi quanto state lì a massaggiare, comunque un po' ovviamente un punto, ve lo lascio, non è che si asciuga in due minuti, no, io l'ho trovato comunque che rimane un po' più unto ovviamente, sui capelli io l'ho passato specialmente appunto su qua le punte, su metà lunghezza, non sulla cute perché magari ve lo può proprio ingrassare, però se lo passate qua, io appunto che mi sono trovata i capelli un po' più secchi, un po' più unti, mi sono aiutata tantissimo con questo olio, tra l'altro una cosa che mi sono anche trovata comodissima, anche lì io mi sono trovata comodissima, magari se un'altra persona lo prova, magari si trova male, come struccante, veramente favoloso, perché io ne prendo giusto un po' di quantità, mi metto lì, massaggio, poi con un asciugamanino lo passo e è tutto struccato, quindi mi strucca il mascara, matite, ombretti, tutto quello che posso mettere e anche il trucco waterproof, l'ho trovato veramente buonissimo e poi la cosa bella è che dopo che vi siete comunque risciacquati la faccia, vi siete passati questo asciugamano bagnato, umido di acqua, ve lo siete passati, la pelle è veramente morbidissima, ma veramente tantissimo, l'ho trovata veramente morbida, quindi io mi sono trovata veramente bene appunto anche, qua non lo dice di utilizzarlo come struccante, io però mi sono trovata veramente bene anche per usare comunque struccante e quindi lo ricompro in continuazione praticamente, poi un altro prodotto professionale che ho comprato sempre da Accornero è questa colorante che non è una maschera ma è un colorante della Cretsy Color, io ho preso il colore Burgundi, questo qua, che praticamente allora se voi guardate questo colore qua sembra più bordeaux, in realtà quando è anche all'interno, adesso ce n'è giusto un ecco, sembra un po' bordeaux, poi invece quando lo passate in realtà è viola, allora io questo qua è un colorante, quindi lo dovete tenere con i capelli, praticamente voi li tenete, li lavate, ce li avete ancora umidi, li tamponate con un asciugamano e poi potete tenerla, questa come se fosse una maschera, quindi lo passate su tutti i capelli, 3, 15 e 30 minuti, potete tenerlo anche meno, ovviamente più lo tenete e più ovviamente il colore, cosa fa il capello, si impregna di questo colorante, non è una tinta, è un colorante, quindi questo vuol dire che man mano che voi fate i lavaggi, questo scarica e quindi dopo un po' ritornate ad avere non dico il colore naturale, però comunque scaricate tantissimo, quindi anche di questa linea qua esistono colori infiniti, tra il giallo fluo, rosso fluo, rosso normale, blu, verde, tutti i colori un po' sul rosa, sul lilla, tutti i colori un po' ovviamente stravaganti, sono coloranti e quindi ovviamente non vanno a morbidire, a nutrire, magari appunto come io che tante volte mi trovavo i capelli che erano un pochino più scoloriti, andavo a tenere questo colorante qua e io riavevo di nuovo un colore bello, brillante e tutto quanto, quindi come se avessi fatto la tinta, è un po' meno aggressivo ovviamente rispetto a una tinta, quindi può esservi d'aiuto. Poi, ah, questo prodotto qua ovviamente non da tutte le parti, lo potete magari, tipo da lì qua, magari lo potete trovare, ma non posti comunque non dappertutto, se no potete prenderlo anche questo in internet. Poi, ho finito due oli per i capelli, allora il primo è questo qua, l'olio ristrutturante disciplinante Largan per capelli destrutturati e sfibrati, protezione e nutrimento sempre di bottega verde, questa linea qua, questa e io questo qua l'ho veramente utilizzato tutto quanto, l'ho terminato veramente fino all'ultima goccia che potevo, anche questo l'ho utilizzato veramente tantissimo per le punte, punti per i capelli, perché i miei capelli, essendo comunque molto spessi e li ho trovati un punto particolarmente secchi, hanno bisogno proprio di prendere questi oli, quindi succhiare questi oli e ne devo mettere veramente tanto per avere un buon risultato e quindi mantenere i capelli morbidi. Quindi anche questo io ve lo consiglio se volete, ovviamente ci sono di tanti altri tipi di bottega verde come oli, hanno anche quelli per i capelli proprio specifio colorati, hanno quello per illuminante, quello la camomilla, insomma ne hanno di vari, questi qua sono veramente buonissimi, sono veramente, questo profumo di Argan della bottega verde è veramente buonissimo, è veramente veramente buono, quindi mi sono trovata bene sia come profumazione che come prodotto e quindi sì, è possibile che lo ricompro anche se adesso magari prenderò prodotti più legati sempre comunque sempre dell'olio magari legati però anche al sole con qualche protezione, come questo qua che ho terminato, che è della linea vecchia, del sole capelli, quindi un olio protettivo estivo diciamo, sempre della linea di bottega verde, io adesso penso poi, di sicuro lo ricompro perché anche questo mi sono trovata bene, sono 50 ml come era questo qua, questo qui è praticamente un olio di semi di lino con filtro solare, ora questo qui, anche questo me lo sono passato appunto, l'avevo un po' dimenticato, cioè dimenticato, l'avevo lasciato un po' perché poi era arrivato l'inverno, autunno così, quindi io questi qua li abbandono un po' e vado magari a prendere altre linee, altri oli e quindi questo qua dato che poi ovviamente ultimamente è uscito il sole ho detto, va, lo riprendo così lo termino e poi ne prendo quello della linea nuova, mi sono trovata benissimo anche perché essendo punto di lino e semi di lino fanno veramente benissimo i capelli, poi con questo, con il fatto che ha la protezione solare è veramente buono e quindi ve lo, anche questo come profumo non è che mi dice tantissimo, l'altro mi piace molto di più perché è veramente più profumoso quello di Argan, questo qua invece come profumo niente, però fa comunque bene, mi sono trovata bene perché mi rendeva comunque non unti, anzi molto morbidi. Questi sono tutti quanti che i prodotti che ho terminato, vi auguro una buona giornata e ovviamente continuate a seguirmi nei vari social e nei prossimi video. Ciao, buona giornata, ciao ciao ragazze!